In questo nuovo video voglio mostrarvi rapidamente quali sono le strategie di price action che da oltre 16 anni continuo a utilizzare e continuano a rivedersi sul mercato. Diciamo che più strategia è un modello, un modo di leggere determinate dinamiche che il mercato fa, in questo caso utilizzerò l'S&P 500 per mostrarvi queste determinate dinamiche che si susseguono sul mercato da sempre, diciamo che però sono assolutamente trasferibili anche in altri asset come nel mercato forex o nel mercato azionario per esempio titoli singoli ma anche molte materie prime. L'importante è che il mercato di riferimento sia liquido, molto liquido e quindi ci permetta comunque di avere dalla price action una pesatura sana di quelle che appunto sono le dinamiche di prezzo. Quindi un buon peso, la liquidità deve essere parecchia, gli scambi parecchi perché così ci permette di, la price action permette di avere una visione il più possibile diciamo neutrale e anche efficace. Allora vi faccio vedere, la prima cosa che si va a vedere ovviamente è il time frame alto e che cosa si va a vedere sul time frame alto è il trend principalmente. Quindi adesso ovviamente io vi farò, voglio creare qui una checklist molto molto semplice anche se possiamo dire ancora più scarna e semplificativa di quella che è le strategie che porto avanti però per farvi capire. Allora la prima cosa è, diciamo come si può dire, il trend dato dal time frame weekly. Se c'è ovviamente potrebbe essere una fase di lateralità, questa è una cosa che può ovviamente esserci e ci sono momenti anche di questo tipo. Quindi prima cosa mettiamolo così, trend dato dal time frame weekly e in questo caso come possiamo vedere il S&P 500 sta vivendo già da molto, prendo l'ultimo anno, anno e mezzo, un movimento abbastanza chiaro, long. Quindi diciamo che in linea generale quello che io poi andrò a fare nel momento in cui abbasserò il time frame sarà sapere esattamente che tipo di tendenza ho. Che non significa per forza andare sempre nella tendenza, significa andare a comunque avere la consapevolezza di quella che è la tendenza per cercare di utilizzare principalmente quella tendenza ma non è detto che sempre verrà utilizzata perché sarà anche in base a determinate cose che adesso vediamo. Allora, questo ceccare il trend di riferimento che è appunto il trend weekly ci permette appunto di avere una visione molto chiara di quella appunto che è la forza o meno dei compratori o dei venditori in quel determinato mercato. Quindi in questo caso per esempio negli ultimi mesi la forza è da parte dei compratori. Poi l'altra cosa che possiamo andare a vedere che io segno qui è, quindi una volta cercato il trend, andare a segnarsi, diciamo, identificare i livelli. I livelli chiave, identificare i livelli chiave che sono ovviamente assolutamente importanti. Questi livelli chiave si possono segnare sul weekly ma in questo caso andrei anche sul daily e segnerei quelli che non vedo ovviamente sul weekly ma che possono essere sicuramente interessanti da seguire perché molto chiari come punti di possibile rimbalzo o come punti di possibile acquisto o vendita ovviamente. Quindi andrei a segnarmi tutti i punti dove il prezzo di quell'asset che noi stiamo andando a analizzare nell'ottica operativa possono dare degli spunti operativi che possono essere come livelli a livello di aree importanti quindi tutti i punti dove lui va magari a fermarsi e rimbalzare prima sul weekly e poi sul daily. Queste due cose che adesso vi ho appena detto, quindi identificare il trend sul weekly principalmente, poi segnarsi i livelli principali sul weekly dove lui si ferma principalmente e poi andare sul daily e sul daily andare a seguire diciamo anche qui segnarsi i livelli e anche qui comunque identificare quella che è la tendenza ci permette poi di avere una chiara visione e consapevolezza delle due principali caratteristiche del mercato che sono appunto le tendenze weekly e daily e i livelli principali di questo mercato su weekly e daily. Queste sono le prime due cose, anzi io ripeto oggi semplificherò molto, di alcune cose non parlerò volutamente però è per darvi una checklist molto chiara e semplice di quelle che sono le cose che io da sempre, veramente da oltre 16 anni guardo e continuo a guardare e faccio trading su quelle cose là. La terza cosa diciamo che si va a osservare è attesa di un'accumulazione, chiamiamola così, distribuzione se vogliamo usare termini un po' più tecnici. In realtà si potrebbe anche parlare solo di accumulazione, tanto nel senso a me del termine esatto poco importa. l'importante è che ci capiamo su quello che si vuole andare a vedere, quindi tende dato dal time frame weekly e qui farei anche così, weekly più daily ovviamente. Edificare i livelli chiave anche qui, weekly più daily. Anche qui ovviamente bisogna avere una visione sempre molto chiara. L'attesa dell'accumulazione e distribuzione, questa diciamo principalmente, l'attesa che io ho dell'accumulazione e distribuzione è principalmente sul grafico daily diciamo, anche se sul weekly poi ci possono essere ovviamente dei momenti che ci danno diciamo l'opportunità di fare ovviamente, di fare anche sul weekly perché quando il mercato ha dato moltissimo e quindi sta spingendo, 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 quindi dovrò comunque seguire anche il movimento che c'è sul weekly e quindi aspettare che il mercato un pochino consolida anche sul weekly. Però è una cosa questa qui che in linea generale una volta che si identifica un buon momentum sul grafico weekly, si identificano, e anche sul daily, si identificano i livelli più importanti su weekly e su daily. Diciamo che la parte di accumulazione e distribuzione, quindi la parte che adesso andiamo a vedere di riossigenazione del mercato, la vado principalmente a seguire sul daily, perché è lì dove, quindi sul grafico time frame giornaliero, perché è lì dove c'è più, dove io personalmente noto che c'è più ciccia, dove c'è più la possibilità di trovare degli spunti. Quindi detto queste tre cose che sono diciamo proprio semplificando in maniera molto molto assolutamente proprio semplificativa il mio stile di trading, la mia strategia nella visione del mercato, poi devo andare a cercare. Quindi se io adesso prendo questo grafico daily, noterò appunto che il mercato ha formato delle basi di accumulazione. Queste aree di accumulazione si notano perché il mercato tende a fermarsi. Quindi nel momento in cui c'è una gamba il mercato inizia a rallentare, quindi ribassa un po', magari rialza, ribassa, crea quelli che vengono chiamati proprio a volte ritracciamenti, se si va un po' più in basso, a volte solamente fasi laterali con gestione. Ecco, queste situazioni sono le situazioni che io aspetto per poi magari ricomprare o vendere quel mercato, non per forza comprarlo. Che cosa farò? Ovviamente in questo caso nel momento in cui lui si ferma, adesso noi andremo a segnare queste situazioni. Quindi segniamo una qui e magari facciamo anche una configurazione sul time frame inferiore e poi duplichiamo qui, ecco, queste due fasi per esempio. Su quelle due fasi aspetterò delle dinamiche interessanti sul grafico daily e poi magari posso andare su time frame come, adesso io prendo per esempio un quattro ore, andrò sul quattro ore a identificare delle possibili conferme operative. Quindi, ritorno un attimo sul daily, mi trovo in questa situazione, il mercato è molto forte e long, abbiamo una prima dinamica di fermo, fermo, qua c'è un'iniziale ripartenza per esempio. Quindi tra martedì 25 giugno scorso e il 27 c'è una possibile ripartenza con delle candele inside, vedete queste candele inside. Quindi io lì potrei andare, quindi abbiamo detto tra il 25 e il 27 di giugno, posso andare a guardare se ci sono delle dinamiche che possono essere identificative come dei long, tra il 25 e il 27 abbiamo detto, no? Allora qui vediamo che l'unica che potrebbe essere presa in considerazione è questa, questa dinamica qui o questa, anche se questa è un inside, questa fuoriesce, insomma è bruttino, non l'andrei mai a fare, quindi in questo caso vedete starei fermo, addirittura qua poi c'è uno swing verso il basso, quindi si starebbe fermi, quindi si aspetta sul daily un'ulteriore dinamica, questa qui addirittura potrebbe essere una dinamica che porta giù, quindi io in questo caso potrei andare anche a valutare delle fasi di bassiste, quindi per esempio nella giornata successiva a il venerdì 28, quindi il lunedì 1 o il martedì 2, poi dopo lui riparte, quindi 1 e 2 di, abbiamo detto, di luglio scorso, eccolo qua, andiamo a vedere, no questo è, sto sbagliando io, ah no, aspettate, ero qui, scusate, dopo andiamo a vedere questo, aspettate un attimo che voglio vedere dove ero arrivato, ero, ah no, ho guardato subito questa, vabbè guardiamo questa e dopo guardiamo quell'altra infatti, quindi stavamo guardando questa, arriviamo qui, c'è questa dinamica short, quindi 1 e 2 luglio, andiamo a prendere 1 e 2 luglio, ecco qua, vediamo se c'è qualche spunto long, 28 giugno, ecco qua, 1 luglio, guardate, l'1 luglio, e adesso qui, cancello così, si nota meglio, guardate cosa è successo, proprio sul livello, nella giornata del 2 luglio, quindi non c'è stato un movimento short, non c'è stato, quindi non si è creato una dinamica short da tradare, un trigger short da tradare, addirittura il 2 di luglio, tra le 13 e le 17, quindi il 4 ore di pro real time che va dalle 13 fino alle 17, ha portato a un doppio minimo higher, quindi se io vado poi sul daily, che avevamo questa, si riporta qui, il mercato addirittura conferma con una barra di questo tipo, proprio il 2 di luglio, che è stata portata da questa che vi ho appena fatto vedere, eccolo qua, se guardiamo magari il 6 ore, vediamo anche qui, è uguale, quindi cambia moltissimo ovviamente, ritorno su 4 ore, e il mercato riparte su, quindi vedete come in questo caso la conferma anche del doppio time frame, che può essere anche confermativa, poi successivamente si possono trovare degli spunti, anzi, molte volte è così proprio, si può iniziare a lavorare in ottica long, quindi puntare, diciamo, sulla tenuta di questa, di questo minimo, sulla fase di accumulazione che ormai è finita, e quindi magari comprare nel momento in cui lui riparte, non per forza qui sopra, perché arrivavamo da quello short, ma magari anche la candela successiva, o il giorno successivo, quando lui consolida un po' sopra, si può comprare e poi posizionare gli stop in base alla propria propensione al rischio, alla propria metodologia di stop loss, io adesso qui non sto parlando di questo, ma di identificare il momento, la strategia di entrata, e questo è sicuramente molto, è quello che io vado sempre a cercare, soprattutto nei momenti in cui si notano dei trend chiari. Poi abbiamo visto questo prima, ecco andiamo a rivedere anche qui questo, per esempio nel momento in cui lui un po' si ferma, qui nei giorni successivi potrebbe dare un'idea short, quindi abbiamo i venerdì 24, 27, 28, solitamente 1, 2, 3 giorni successivi, ho fatto già dei video anni fa, li trovate su questo canale dedicati al 4 ore al daily, non so se alcuni siano destinati agli abbonati di questo canale, che è un nuovo servizio che abbiamo inserito con dei video proprio tecnici, approfonditi, relativi alle tecniche di trading che utilizzo, o comunque siano anche nel canale da un po', ci sono dei video che parlano proprio di daily e 4 ore, come andarle a utilizzare. Ecco, vediamo come il mercato, quindi nei giorni successivi tra il 24 e il 28, qui c'era una fase che potrebbe essere distributiva, noi non lo sappiamo in quel momento, vediamo se magari porta giù, quindi 24, 27 di maggio, andiamo su 4 ore, ecco qua, quindi tra il 24 e il 27 di maggio abbiamo, vabbè, questa robina qui che però vedete, tiro via, anzi lo tengo, è all'interno di questa, quindi tutte candele un po' all'interno, io sinceramente non avrei trovato nulla per vendere qui, quindi sarei probabilmente rimasto fermo, non c'era nulla, benissimo, anche perché siamo comunque contro la tendenza, scusate, eccoci qua, e poi c'è tutto questo movimento, fino a che nella giornata, vedete qua, del 31 maggio, c'è questo forte recupero, questo doppio minimo Ayer ancora, come prima forse era un doppio minimo Ayer, sì, più o meno, e quindi vediamo successivamente, questo era sempre un venerdì, 31 maggio, quindi successivamente al 31 maggio, se ci sono stati degli spunti o comunque se il mercato ci stava dicendo delle cose, quindi tolgo qui, ecco, il 31 maggio tra l'altro guardate ha portato su da questa pinbar di inversione, ovviamente che non tradabile, sinceramente era molto così difficile, però guardate, movimento, e poi guardate qua, il lunedì 3 giugno alle ore 17, quindi questa è la candela che chiude alle 21, il mercato praticamente ha creato una pinbar, 1, 2, 3, questa è sicuramente una pinbar che arriva su un, eccolo qua, su il 61,8, 50% di tracciamento della gamba, e questa si poteva tradare già direttamente alle 21, quindi comprare direttamente alle 21, oppure aspettare il giorno dopo, insomma, ovviamente si può anche aspettare con i time frame alti, si può anche identificare un momento, guardate, poi la mattina successiva il mercato comunque avrebbe ritracciato, quindi, tra l'altro questo è l'S&P, quindi si può tranquillamente aspettare solitamente, fosse il DAX, insomma, dipende anche un po' dal mercato, quindi, guardate come si è aspettata la fase accumulativa, quindi si aveva ben chiaro il trend, si aveva ben chiaro i livelli, fase accumulativa, guardiamo bene il daily che cosa ci fa, si può rientrare magari su dei frame 2, 4, 6 ore, e qui con un acquisto su questo livello, dopo qualche giorno il mercato avrebbe dato un movimento sano e interessante verso l'alto che avrebbe portato su, e tra l'altro dando anche ulteriori conferme long, nel momento in cui è creato questa, nell'aumento di volatilità qui, poi si ricondensa un po', ulteriore pin bar con falsa rottura, pin bar con falsa rottura, vedete, tutti i punti questi che andavano a confermare, qui tra l'altro si consolida un altro po' in, su time frame molto basso, quindi 4 ore, il mercato che comunque sta continuando a salire. Ecco, che quindi quello che voglio dirvi è, nel momento in cui andiamo a prendere questo quindi, ben chiaro, trend su weekly, su daily, identifichiamo i livelli principali su daily e attendiamo una fase di riaccumulazione e distribuzione, quindi un momento in cui il mercato dopo una gamba tende a fermarsi, questo ovviamente è importante, quindi ci deve essere una gamba. Adesso per esempio, nell'ultimo movimento short, la gamba, allora abbiamo una tendenza long sul weekly, una tendenza long sul daily, abbiamo però un movimento molto forte short, quindi questa è una gamba e quindi noi adesso qui potremmo aspettare una fase di ricongestione. E guardate, il mercato ha recuperato e proprio qui si è creato questo. E quindi si può andare a lavorare, a osservare quello che possono dirci i mercati su quel momento di fermo. Dopo una gamba si ferma e magari ci crea delle dinamiche su 4-6 ore, in questo caso le pinbar su 4 ore, una pinbar sul 6 ore, che può essere utilizzabile in ottica di trading per andare a cogliere dei movimenti. Quindi, ecco, se vogliamo riassumere, questa è la strategia che io da sempre ho utilizzato, da quando ormai faccio trading in maniera professionale, per identificare il momento, il timing migliore e soprattutto, però devo andare a prendere queste, soprattutto queste tre cose che identificano un ingrediente, diciamo, che io guardo, quindi la tendenza, i livelli e la fase di fermo dopo un movimento, nella fase di fermo cerco di capire cosa succede. Nel capire cosa succede ci possono essere dei segnali, delle dinamiche di price action sul daily e poi possono essere confermate, meglio ancora, su 4-6 ore che ci danno il là per andare a costruire, diciamo, la nostra operazione. Direi che per oggi è tutto, se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, ovviamente iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanella perché così vi permette di essere notificati con i nostri aggiornamenti dei video e se volete supportare questo canale ho creato appunto l'abbonamento per chi è un price action lover, come abbiamo voluto chiamarlo, abbonamento da 4,99 euro al mese, quindi diciamo un prezzo simbolico per dare contenuti di un certo rilievo e approfonditi che sono esclusivi degli abbonati e poi magari nel futuro anche qualche live dedicata esclusivamente agli abbonati. Bene, allora io vi ringrazio, vi auguro una buona settimana, un buon trading simple e a presto, ciao.